se ne parlava da alcune settimane ma ora saremmo giunti alla soluzione del caso tutti stavano discutendo del futuro di gemma galgani a uomini e donne infatti c'è chi ipotizzava un addio visto che è stata data anche vicina ad un uomo mentre altri erano convinti che potesse tornare tranquillamente a settembre e ora maria de filippi avrebbe preso la sua decisione a rivelare tutto è stato il sito anticipazioni tv infatti soffermandosi su gemma galgani è stato detto ciò che la aspetta a breve e a lungo termine a uomini e donne un'opzione che in pochi stavano mettendo in conto invece ancora una volta la regina di mediaset ha sorpreso tutti dandole una possibilità impossibile da rifiutare gemma galgani svelato il futuro a uomini e donne cosa ha deciso maria c'è infatti un piano ben congegnato da maria de filippi proprio per gemma galgani a quanto pare non avrebbe proprio voglia di rinunciare alla dama a uomini e donne possiamo subito anticiparvi che lei non andrà via e resterà nello studio del dating show di canale 5 ma non è tutto perché tra non molto farà qualcosa di ancora più importante gemma presumibilmente risponderà di sì a questa offerta allettante di maria anche se nell'ultimo periodo si era vociferato pure di un contatto con signorini per partecipare al grande fratello grazie a tutti